Caglia non ha paura, caglia non ha paura Qui sei a sicuro? Ma nonno, tu non hai paura? No, perché loro non vogliono farci del male Non vogliono venire da noi No Così era Che cos'è? Te l'ho detto, è una magia Ehi Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Grazie a tutti.